Alex Vinazzer c'è? Quarto posto importante sulle nevi di casa che ci racconti? Eh beh un quarto posto che brucia un po' perché sai quarto non è mai podio però comunque ho fatto una brutta prima match quindi mi sono rimesso in gioco con la seconda quando sono arrivato giù mi sono gasato un po' troppo presto sai quando arrivi giù con 6 decimi speri che basta per andare un po' più davanti invece no uno dietro l'altro mandava davanti alla fine è il quarto posto che però da fiducia per il prossimo punto la maledizione dell'ultima porta Vinazzer in Val d'Isère ora Noel qui a Campiglio e vediamo chi tocca a Zagabia dai bocca al lupo e buon Natale buon Natale a tutti Giuliano Razzoli sempre più continuo nono settimo cosa ci racconti? Campiglio è sempre speciale un'ottima gara col 26 sono soddisfatto la seconda non era facile già un po' segnata bisognava rischiare fatto una match giusta corretta senza esagerare ma comunque spingendo quindi soddisfatto della mia sciata ancora voglia di lottare di non mollare promesso un senatore ma c'è il profumo dei giochi cinesi è sicuramente è un anno speciale quindi bisogna giocarsela in modo speciale